Educare alla custodia del creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città. Questo è il tema della giornata per la custodia del creato promossa già da alcuni anni all'inizio di settembre dalla conferenza episcopale italiana dietro impulso del patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Una giornata che ha dunque anche una forte connotazione ecumenica e che è stata vissuta con un incontro avvenuto domenica scorsa presso il seminario Arcivescovile. Erano presenti con Monsignor Roberto Mastacchi, vicario episcopale per le aggregazioni laicali anche esponenti del SAE, segretariato attività ecumeniche che ha promosso l'incontro e rappresentanti delle confessioni cristiane del territorio, cattolici, ortodossi e protestanti. Dopo un momento di preghiera si è tenuto un laboratorio per la progettazione di un percorso di educazione alla custodia del creato in prospettiva ecumenica. L'intento è quello di promuovere una collaborazione tra le varie realtà presenti. L'incontro è terminato con una serie di rappresentazioni teatrali e musicali che hanno favorito la condivisione fraterna.